Mettetevi in gioco con gli altri e con Dio, dando il meglio di voi stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Così Papa Francesco e i membri della Federazione Italiana Tennis ricevuti in Aula Paolo VI, ribadendo il valore dello sport nella formazione delle persone, soprattutto i giovani, il Pontefice ha chiesto a tutti di dare buona testimonianza di valori umani e di essere maestri di una pratica sportiva che sia sempre leale e limpida. Il vostro è uno sport molto competitivo, ma la pressione di voler conseguire risultati significativi non deve mai spingere a imboccare scorciatoie come avviene nel caso del doping. Com'è brutta e sterile quella vittoria che viene ottenuta barando sulle regole e inganando le altre. Grazie. Grazie. Grazie.